Amici della pagina Leo Pedro, bentornati in questo nuovo video dopo un po' di giorni, settimane a dire il vero di assenza, ma il buon Pedro aveva da lavorare per presentarci delle novità strepitose che vedremo tra pochissimi secondi, ma prima Claudio, domanda d'obbligo, raccolta finita, come è andata quest'anno? Ho sentito dire, voci Vox Populi come si dice, che ni, tanti olivicoltori hanno un po' avuto difficoltà. Un anno sicuramente negativo per l'olivicoltura ligure, questo è un dato di fatto, però noi possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo anticipato la raccolta, siamo riusciti a fare un buon prodotto, chiaramente le quantità sono inferiori alla media annuale delle nostre produzioni, comunque l'importante è riuscire, siamo riusciti a ottenere un buon prodotto. Non posso fare meno di notare questa scatola che sta proprio lì dietro di te con il logo mitico di Olio Pedro, so che dietro quella scatola c'è il frutto di un anno intero di lavoro, lo sappiamo, Olio Pedro è alla costante ricerca dell'innovazione e cerca sempre di coniugare le novità con le tradizioni, e quello che c'è lì dietro è proprio il risultato di tutto questo. Claudio, vuoi svelarci che cosa c'è dietro questa scatola? Siete pronti? Di qui ci sono delle grandissime novità, fai proprio... Ecco qua, ragazzi, queste sono le nuove bottiglie di Olio Pedro. Adesso Claudio ci devi spiegare effettivamente che cosa è cambiato, perché già a colpo d'occhio qualcosa sembra che sia cambiato. Ogni cultivar è rappresentata da un colore, mentre prima le bottiglie erano tutte bianche e l'indicazione della cultivar era rappresentata sulla targhetta posta sul tappo, adesso ogni cultivar ha il suo colore. Quindi abbiamo utilizzato il magenta per rappresentare la merlina, il giallo per la colombaia, il bianco per l'olivotto, il blu ciano per la taggiasca e infine il nero per il blend. Quindi le altre comunque le conosciamo, il blend invece a molti può essere, diciamo... Sì, il blend non è altro che un miscuglio dei quattro oli monovarietali. Ok, quindi una sorta di copter. Sì, con diverse percentuali. E sono già tutte e cinque disponibili. Tutte e quattro. La merlina, sì, la merlina quest'anno l'abbiamo fatta poca e è andata a ruba. Quindi per tutti gli appassionati della merlina, quest'anno dovrete, tra virgolette, accontentarvi, perché comunque le altre cultivar sono di ottima qualità, però la merlina quest'anno... La merlina non c'è. L'aspetto cromatico è quello che passa subito all'occhio, dicevamo, però dietro le nuove etichette c'è una novità che si nasconde. Sì, quest'anno imbottiglieremo nel vetro. Nel vetro perché? Perché prima di tutto c'è stata molta richiesta delle bottiglie in vetro, poi il vetro l'abbiamo sempre considerato molto fine ed elegante, ma avevamo un po' di dubbio a utilizzarlo in quanto lasciava passare la luce. Ricordiamo che la fotossidazione nell'olio è velocissima. Abbiamo però avviato a questo inconveniente, fasciando completamente la bottiglia con la nostra etichetta. Altre novità sono tantissime, come vedete amici di Olio Pedro, il tappo antirabbocco. Sì, tappo antirabbocco, tappo antiriempimento. L'abbiamo utilizzato su tutte le bottiglie, ricordiamo che è obbligatorio nei locali pubblici, comunque dove c'è somministrazione di cibo. Anzi, dovete pretendere che quando vi venga servito dell'olio sulla tavola abbia il tappo antirabbocco, perché è una garanzia per il produttore e per il consumatore. E poi, anche perché vi faremo vedere, il dosaggio anche nell'uso quotidiano esce proprio una quantità ottimale. Un filo d'olio. Altra novità, in questo video rimane alla tua sinistra, è il sacchettino in cui verranno vendute le bottiglie di Olio Pedro. Un sacchettino di cartone spesso, giusto? Sì, per ogni bottiglia, in quanto chiaramente il peso del vetro è molto superiore alla confezione di prima, quindi abbiamo scelto un sacchetto molto più resistente, con dei manici in corda, che adesso saranno accompagnati da un'etichetta col simbolo natalizio, poi chiaramente... Il capello di Natale sparirà. Esatto. E non mancherà un top proprio sul tappo, come ci ha abituato Olio Pedro già nella precedente annata, il cartellino con le analisi sensoriali. Certo, ricordiamo, come abbiamo detto nei precedenti video, che non si può dire l'olio è buono perché l'abbiamo fatto noi. Per essere classificato extravergine dobbiamo avere delle analisi chimiche e delle analisi sensoriali fatte da un paio di assaggiatori professionisti. Quindi non sai tu che dici che fai l'olio è buono, sono gli altri che lo dici. Bravo. Sul fronte packaging... Sì. ...un spoiler qui, mi hanno detto che le novità potrebbero non essere finite qui per quest'anno, forse o già al prossimo anno, non si sa. No, no, arriverà qualcosa entro alla fine dell'anno. Vabbè, quindi... ...veramente... Tenetevi pronti perché le novità sono finite. Come avete visto, sono tantissime le novità di Leo Pedro. Il video finisce qui. Salutiamo e ringraziamo Claudio e ci vediamo al prossimo. A presto.